Sì, ascoltiamo la sigla e poi abbiamo il nostro secondo super ospite qui al Ciao Tony Show, restate lì. Ciao Tony, ciao, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, anche sabato su radio ICN New York, ciao Tony, ciao, Tony, ciao, Tony, ciao. E ciao a tutti voi, tutti voi che ci ascoltate in giro per il mondo e tutti voi che in questo momento ci guardate, live video sulla pagina di Anthony Pasquale, Facebook, vedete l'immagine, io vi saluto, adesso addirittura abbiamo il nostro Pasquale da San Paolo, Brasil, ciao Pasquale, saluti e forti abbracci qui da Radio ICN. E come dicevo, questo è il bello della radio, ormai via internet arriviamo ovunque di più e questo ci fa un piacere enorme. Radio ICN e l'Italia a casa vostra porta i personaggi, la musica, tutto e di più e naturalmente lo facciamo negli studi di Radio ICN e nella redazione del quotidiano, del giornale italiano di New York. E adesso, cari amici, si ritorna in Italia da Roma, andiamo a Ferrara. A Ferrara c'è un grandissimo attore, lui si chiama Michael Segal. Ciao, Michael. Ciao, ciao Tony, come va? Tutto bene qui, come va lì a Ferrara? Ma tutto bene direi, è una città molto tranquilla, piccolina, ma tranquilla, c'è del tempo oggi. Guarda a caso, non per caso, ma io ho un sacco di amici a Ferrara e adesso ne ho uno in più naturalmente, ne ho anche Michael, oggi si stabilisce anche una certa amicizia tra di noi, quindi li saluto tutti. Ne ho una anche molto particolare, nel senso che ha un borgo che è una meraviglia. Prima di andare avanti, dammi un minuto, Michael, tanto per parlare di questo personaggio, la nostra Vittorina. Vittorina che ha questo bellissimo borgo, Borgo Lanciano, a Castel Raimondo, in provincia di Macerate, lo so, ma lei è di Ferrara, una grandissima donna, bravissima donna. Adelaide, altrettanto, assessore alla città di Ferrara, almeno alcuni anni fa, quindi le saluto tutte. Ecco perché si è stabilito un rapporto meraviglioso. Allora dicevo, Borgo Lanciano, della nostra Vittorina Nori Giuffellato, origine di Ferrara, che ha questa meraviglia di Borgo. Borgo Lanciano, che ne sto parlando da anni qui a Radio SN, Castel Raimondo, in provincia di Macerate. Se andate al sito www.borgolanciano.it, vedrete veramente di che meraviglia sto parlando. E voglio salutare Adelaide, la nostra Vittorina, la nostra Benedetta, che è Ferrara, e il nostro grande Franco Pulverenti. E naturalmente salutiamo il nostro Michael adesso, Michael Sigo, l'attore di Ferrara, che con questo cognome, pensavo fossi in America, ma così non è. No, no, sono italiano, vivo a Ferrara, ho delle origini straniere, ma non sono americane. Perfetto. Allora, Michael, conosciamoti bene, raccontaci un po' di te, il tuo lavoro, un po' della tua storia e anche della tua amicizia, naturalmente. Dunque, innanzitutto grazie, saluto tutti gli ascoltatori, voglio ringraziare Joe Cage che mi ha dato la possibilità di mettermi in contatto con voi e D'Armelinda Maturo, che è una produttrice con cui riuscirò a fare un film entro quest'anno, alla fine del 2017. Io sono un attore, ho 43 anni, faccio l'attore da 23 e ho iniziato la mia carriera proprio negli Stati Uniti, in realtà proprio a Los Angeles, dove mi ero trasferito molto giovane. E dove ho fatto i primi piccoli ruoli, le prime comparsate in telefilm americani che poi dopo sono andati, hanno avuto grande successo in tutto il mondo. Poi però sono dovuto tornare in Italia per vari motivi e ho continuato qui la mia carriera, dove attualmente posso contare su 55 crediti da attore di film indipendenti. Nonostante comunque continui a lavorare principalmente in lingua inglese, perché il mercato è soprattutto rivolto all'estero, e abbia comunque lavorato anche con produttori ed attori americani. Che saluto tra l'altro se mi stanno ascoltando, anche se parlo in italiano e non in inglese. Che cos'altro posso raccontarvi? Michael, i film che hai fatto, racconta un po' di questi titoli dei film, se possono ancora vederli, c'è un sistema di andare su web, come possono seguirti, dove trovarli? Ah ok, va bene. Sì, ma dunque io ho una pagina IMDB, dove c'è un elenco di tutti i film che ho fatto, ovviamente sotto il mio nome Michael Seagal, i film sono sicuramente e certamente visibili e rintracciabili con i normali canali di intrattenimento e sono quasi tutti disponibili in DVD e in Blu-ray, su Amazon e su altri canali. Attualmente ho un prodotto molto bello, una serie TV che è uscita il mese scorso da un paio di mesi negli Stati Uniti su Netflix, si chiama The Reating, è una serie italiana di 7 episodi, un poliziesco thriller che sta avendo veramente un buonissimo successo di ascolto e delle critiche molto positive negli Stati Uniti. Speriamo che con il successo americano questa serie riesca ad arrivare anche in Italia, dove è nata e quindi sì, la serie è stata fatta da Roberto D'Antona e Anna Maria Loruzzo, che sono due attori e produttori italiani, hanno puntato molto su questa serie e i riscontri sono molto positivi effettivamente. Michael, questa serie attualmente su Netflix, com'è il titolo di nuovo? The Reating, la mia titura. Ok, benissimo, perfetto, wow. Quanti episodi sono e quanto tempo durerà? Sono 7 episodi, io interpreto uno dei protagonisti, si chiama Colin ed è un poliziotto, è un personaggio molto molto bello, è uno dei migliori che ho fatto, uno dei più affascinanti. È un poliziato talmente cinico e talmente bastardo nel suo modo di essere e di lavorare, che però è uno di quei personaggi che non puoi non apprezzare, perché dice quello che probabilmente tutti pensano e tutti vorrebbero fare, ma lui invece lo dice, lo pensa e lo fa. E per questo è un personaggio scomodo, anche se molto simpatico al suo modo. Bello, allora, la vita di un attore, da quanti anni fa è l'attore? È sempre una parte, cioè naturalmente è molto interessante farle, vestirsi di parte di quello che devi rappresentare e proprio sentirla in quel modo. Cioè, esprimersi, ecco, dalle volte quello che non è vero da farlo anche sembrare vero. Non è una cosa semplice. Come vi preparate? Come lavorate? Come gestite questa cosa dalla mattina alla sera, quando siete sul set, quando state per filmare e tutto il resto? Raccontaci un po' di questi particolari. Allora, qua si potrebbe andare avanti per tante di quelle ore che non ne hai un'idea. Ci sono moltissimi attori e ognuno ha un proprio metodo per preparare il personaggio e per immedesimarsi in questo. Io ho il mio personale, dove utilizzo la mia capacità storiale per costruire da ex novo un personaggio che ha delle sue emozioni, ha una sua storia e una sua vita. Quindi quando recito mi sdoppio come metto da una parte del cervello, faccio una piccola porticina dove entra il mio, dove entro io, Michael, e lascio che il nuovo personaggio che ho costruito prenda possesso nel mio corpo. Questo è un metodo, uno dei vari metodi che ci sono per recitare. Io mi sono trovato molto bene con questo, piuttosto che invece altri che tentano di recuperare dei propri ricordi positivi o negativi e trasferirli al personaggio. Solo che è una tecnica che non mi piace personalmente perché ti costringe come persona a rivivere proprio dei traumi o delle sofferenze che hai passato veramente e non è molto salutare. Il cinema indipendente è un settore molto, molto duro. È un settore dove non è assolutamente ricco, non ci sono grandissimi mezzi a disposizione. Quindi siamo tutti, però è una grande famiglia, siamo tutti amici prima di tutto, professionisti assolutamente, equiparati tranquillamente a qualsiasi altro tipo di attore. Però sappiamo che noi dobbiamo, contrariamente a Star, dello Star System o VIP più famosi, noi non possiamo permetterci mai di sbagliare o di peccare in qualsiasi cosa perché siamo molto facilmente attaccabili in quanto proprio sono produzioni un po' più povere di quelle che siamo abituati a vedere nei cinema. È un po' come dire, non mi potete permettere di splecare, ecco, tanto per chiarire in un certo senso perché ci sono i limiti naturalmente. Sì, non si può splecare e non possiamo poter anche concedere balli o errori. Giusto. Con quali attori molto, molto famosi, conosciuti hai lavorato fino adesso? Attori famosi con cui ho lavorato? Sì. Oddio, in Italia, dunque americani, abbiamo lavorato con, ci sono alcuni attori e attrici americane con cui ho avuto il piacere di lavorare, che sono delle vere e proprie star del cinema indipendente anche americano, che sono Debbie Rochon e Tiffany Shepis, che sono due screen queen denominate nel gergo, perché sono quelle attrici che soprattutto nel settore horror hanno il compito di essere quelle che vengono staventate e quelle che appunto trasmettono la sensazione di paura e di terrore. Anche Tara Cardinal, un'attrice di Los Angeles con cui ho lavorato, però ecco, diciamo che non ho lavorato con le star, con le americane come Matthew McConaughey o Tom Cruise, insomma quelli sono un altro livello, quelli sono quasi inarrivabili. Beh, diciamo che sono inarrivabili, diciamo che sono in attesa, ecco, di arrivarci e quindi sicuramente noi ti facciamo un grande in bocca al lupo che la tua carriera sicuramente andrà a gonfie vele e poi, quanto pare, tu sei già molto contento di quello che fai, è quella cosa che è più importante, quindi sei soddisfatto. Senti, Michael, purtroppo il nostro tempo finisce qui, magari ci risentiremo in prossime puntate, dopo aver visto alcune di queste puntate, così possiamo anche commentarci un po' sopra. Un grande in bocca al lupo a te, salutiamo di nuovo il nostro amico Joe, il nostro grande, grande Joe che ci ha dato la possibilità di questo contatto e mi auguro che da ora in poi ascolterai anche Radio SN, così segui un po' la radio italiana qui a New York, tutto quello che succede e quello che facciamo. Io vengo sempre a New York, quindi vengo a trovare. Ah bene, allora mi viene a trovare, certamente io vengo spesso in Italia, quindi ci incontriamo anche in Italia, infatti sto per andare al Film Festival di Taormina a giugno, parlando di film e di attori. Eccoci qua, ok? Va bene, il nostro Michael Siegel, l'attore di Ferrara, l'attore dell'Italia e dell'America e perché no del mondo intero che noi gli facciamo tantissimi auguri e un grande in bocca al lupo. Il tuo sito ancora una volta e poi ci saluti. Il mio sito è www.michaelsegal.altervista.org e mando un saluto a tutti quanti e a tutti i new yorkiani e a tutti i quelli che ti ascoltano. E noi ricambiamo con affetto e con la musica! Stammi bene, dondolando, ti faccio dondolare. Michael, ti faccio dondolare un po', anche se alcuni anni fa, però quando si va a dondolare, ecco, guarda come dondolo è, fallo anche tu! Guarda come dondolo, guarda come dondolo con... Grazie! 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 Grazie!